Mi chiamo Fabrizio Piccareta, ho 49 anni, sono al primo anno come allenatore qui alla Sampdoria, a settore giovanile, allenerò la squadra allievi under 16, cosiddetta allievi Lega Pro. Sono orgoglioso e felice di essere alla Samp, anche perché nel mio passato la Sampdoria è stata importante. Quando ero giocatore sono cresciuto calcisticamente qui negli anni 70 e 80, quindi tornare qua è un motivo di soddisfazione e di orgoglio. La mia esperienza alla Sampdoria è stata segnata soprattutto in senso positivo dagli ultimi due anni, dove ho avuto la fortuna e il piacere di essere allenato da Marcello Lippi, che era la sua prima esperienza di allenatore, e ho di lui chiaramente un ottimo ricordo, soprattutto per la sua capacità di creare uno spirito di gruppo, che è una qualità che poi ho ritrovato negli anni, che poi ha caratterizzato la sua esperienza di allenatore, al di là degli aspetti tattici che potevano essere diversi per un settore giovanile, ma proprio ricordo questa sua grande qualità umana, di riuscire ad essere autorevole e allo stesso tempo farsi voler bene dai ragazzi. Smessa la mia carriera da giocatore ho iniziato ad allenare, come molti giovani, ho avuto la fortuna di poter lavorare per qualche anno, quattro anni per l'Inter, per un progetto tecnico che l'Inter sostiene ancora adesso in giro per il mondo e questo mi ha servito per formarmi sul campo anche in difficoltà, magari anche in situazioni particolari, cose che poi mi sono servite nel nel proseguo della carriera e dove poi ho avuto il piacere e il privilegio di poter di poter entrare a far parte dello staff di Paolo Di Canio e ho lavorato con lui per tre anni molto belli, molto intensi in Inghilterra. Prima allo Swindon Town nelle leghe inferiori e poi due anni fa in Premier League nel Sunderland, sempre come vice di Paolo Di Canio. È stata un'esperienza importante, un bel ricordo e spero che queste esperienze vi siano utili per poterle mettere a disposizione dei ragazzi che le hanno adesso. L'importanza del settore giovanile per un club come la Sampdoria, come per tutti i club, deve essere prioritario, soprattutto qui da noi e le recenti testimonianze della bontà del settore giovanile della Sampdoria sono sotto gli occhi di tutti, non ultimo Ivan. Io ho iniziato il 17 di agosto quindi non è molto che lavoriamo e che lavoro con questo gruppo di ragazzi e sono soddisfatto soprattutto del loro approccio. La crescita negli anni precedenti in un settore giovanile come la Sampdoria si vede soprattutto nell'atteggiamento dei ragazzi, sempre molto concentrato, molto educato innanzitutto e chiaramente si capisce che hanno già un'abitudine a lavorare in un certo modo. È normale che io ho avuto bisogno intanto di conoscere loro e loro di conoscere me e il mio modo di lavorare e di rapportarmi con loro. Dopo 20 giorni posso dire di essere contento, anche se non abbiamo ancora avuto modo di confrontarci con il campionato che non è ancora cominciato per noi, però ho già intravisto una buona crescita sia individuale che a livello di squadra, che è quello che ci si aspetta e ci si augura. Poi è normale che i conti, soprattutto quei ragazzi, si fanno sempre in medio-lungo termine, mai a breve termine, anche perché è un'età in cui questi ragazzi ti possono stupire in un senso o nell'altro ogni giorno.